allora vediamo la strategia vediamo la strategia se la ritrovo se la ritrovo sì allora io propongo un long un logo è un po partito via è un po partito è un long di dax long dax oggi sulle parole che ho detto adesso insomma credo che ci sia stato una diminuzione forse eccessiva e quindi oggi era pronta la giornata di allungo a dir la verità il dax sta già tentando di allungare non è un gran che in questo momento ha riperso dai suoi massimi e comunque vengo vengo al dunque io propongo un long di dax perché credo che in queste giornate la volatilità continuerà continuerà molto forte sui listini europei e quindi con prese di beneficio allunghi storni eccetera mi metto un po furbescamente basso non proprio sui minimi ma quasi con una strategia questa volta multi dei nella speranza di andare a pescare non è impossibile non è impossibile da qui alle 18 17 30 di andare a pescare un 18 0 30 quindi la scucchiaiata da sotto non vado adesso a comperare dopo 90 punti di allungo non mi interessa 18 0 30 l l'ingresso è uno stop messo a 150 punti a 17 8 80 è un target long con strategia multi dei a 18 190 questa è la mia strategia è un target allungo non mi interessa è un target allungo non mi interessa è un target allungo non mi interessa è un target allungo non mi interessa